Ben trovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto. Mi rivolgo a voi cari colleghi e colleghe ma anche a voi ragazzi e ragazze. Questo video riprende ed aggiorna un videocorso che avevo già realizzato sulla migliore perché semplice ed efficace app da utilizzare e parlo di applicazione web per creare meme o fumetti senza neppure doversi registrare. Vi parlo di LaiWi sito di riferimento guardate con me barra degli indirizzi LaiWi ovvero L Y W I punto com. Come ci comportiamo con questa applicazione web? Possiamo se vogliamo realizzare un fumetto con tanto di storyboard e dunque vignette scegliere uno dei tre modelli presenti. Guardate con un clic sarò ancora più chiaro. Bellissima attività per raccontare una storia quello che si chiama storytelling o per creare un fumetto con i personaggi di nostra fantasia. Ora guardate ricarico questa pagina web con il pulsante a forma di semicerchio in alto a sinistra. Ci ritroviamo nella home page di LaiWi questa volta clicco su create new e ancora su create per avere un area di lavoro pulita e trasparente scoprirete che ci è utile perché abbiamo questa sorta di quadrettatura di sfondo. Come possiamo mettere una immagine di sfondo a piacere o importare cioè usare un personaggio a piacere per esempio una immagine scaricata dalla rete. In alto a sinistra troviamo il pulsante open. Due le voci che ci interessano. La prima background image è quella che ci permette proprio di caricare uno sfondo personalizzato. La seconda overlay image è la voce che ci permette di inserire una qualsiasi immagine vedi un personaggio a piacere e mentre lo sfondo sarà non movibile la overlay image sarà invece spostabile e ridimensionabile. Clicco ora su background image poi scelgo il percorso eccolo qua vedete la nostra immagine lavagna nel mio caso cartellina dei download percorso da noi scelto clicco su apri ed ecco il fondo su cui lavoreremo. I personaggi già presenti e ideali per creare sì proprio quei memes che vedete circolare in rete sono qui in basso sotto il pulsante stickers. Spostando la mia faccia abbiamo una bella carrellata di personaggi o effetti onomatopeici comics o altri elementi grafici. I personaggi classici per i meme sono appunto i characters. Eccoli qui. Fate attenzione bene perché se noi scorriamo sotto con pazienza scopriremo che c'è una barra di scorrimento non solo qui. Clicco su close ma ad esempio cliccando su character anzi su characters perché ne abbiamo diversi e qui abbiamo i personaggi famosi tanto che io posso con un click avere Albert Einstein al mio servizio e posso farlo parlare. Lo sposto con se sto usando un dispositivo touch il mio dito semplicemente. Se sto utilizzando un notebook un portatile o un chromebook mi posiziono sul personaggio con il tasto sinistro premuto del mio mouse e scorro. Posso anche ridimensionare Albert Einstein posizionandomi sull'angolo in basso a destra e ridimensionando il personaggio. Attenti in questo caso mantenendo le sue proporzioni. Clicco per due volte sul pulsante apply verde. Vale come ok. Se voglio inserire la cosiddetta bubble la nuvoletta il balloon che ospiterà il fumetto vado proprio a cliccare su bubbles e posso scegliere in base al tono con cui voglio far parlare il mio personaggio la nuvoletta adeguata. Io ora prendo la più classica. vedete la nuvoletta che accosto posso spostare i personaggi alla bocca del mio Albert Einstein. Posso anche ridimensionarla a piacere ricordando clic su apply verde una prima e una seconda volta che il testo va inserito e appoggiato sulla nuvola. Sono due elementi distinti. Io ora clicco sul pulsante text. Posso variare il colore e a destra anche il tipo di scrittura ma andiamo sul più add text e immediatamente clicchiamo dentro la casella di testo e digitiamo per un meme simpatico rapido e Albert Einstein che parla. Guardate io scrivo internet punto di domanda è una invenzione 3 puntini invio per andare a capo tasto invio della tastiera atomica punto esclamativo clicchiamo su apply in verde e ancora su apply poi facciamo un clic sulla nostra casella di testo perché ci rendiamo conto qui come è successo nel mio caso eravamo a lavorare sui colori scuri se ci sono degli elementi di troppo io posso ancora cliccare davanti alla lettera i di internet e cancellare gli elementi indesiderati così come vado su apply ancora posso cliccare la mia casella di testo la vedete e ridimensionarla in proporzione così da rendermi conto di quale sia il mio testo addirittura posso cliccare dopo il punto interrogativo andare a capo con invio e spostare ulteriormente che cosa guardate bene la nuvola la bubble e la casella di testo eccoci qua cominciamo a ragionare vedete quindi sono elementi indipendenti l'uno dall'altro tutti ridimensionabili e movibili e qui potrei immaginare un dialogo tra einstein e un altro personaggio o ingrandire il character il personaggio la bubble con il suo testo ed avere proprio un meme se siamo su un dispositivo touch badate bene possiamo anche scrivere il contenuto della nuvoletta utilizzando il pulsante draw penso a chi ha ad esempio un tablet con la penna digitale può essere una idea molto piacevole penso a letteratura nella secondaria di primo secondo grado a italiano per la scuola primaria un meme tanto quanto la vignetta di un fumetto possono ospitare al meglio una citazione famosa un passo di un'opera e quando abbiamo finito ricordandoci se così non è di scorrere portarci in alto qui all'interno della nostra pagina ebbene basta cliccare su save e in un lampo confermando la cartella di destinazione in questo caso download clicca su salva posso appunto in formato immagine una immagine png ottenere una classica immagine che in realtà è il mio meme o il mio fumetto davvero tante le possibilità didattiche di utilizzo di riutilizzo di questa attività semplice laboratoriale per la classe per il laboratorio appunto per la casa e perché no ora che si avvicina al natale per creare un insolito ed originale biglietto di auguri e allora bella laui una bella idea che non ci richiede neppure un account cioè un indirizzo email per il suo utilizzo a voi la prova pratica su strada fatemi sapere che ne pensate vi do appuntamento sindora al prossimo video corso un caro saluto a tutti e a tutte dal il nostro andrea cartotto ciao